sono in tanti ad aver tentato di domare il west ma solo uno l'ha fatto con stile è un uomo di legge con un guardaroba da urlo e un enorme pistolone le donne gli cadono letteralmente ai piedi facciamo solo quello che sappiamo fare meglio è l'unica cosa che gli crea difficoltà è il suo socio niente male questo treno gordon c'è un precipizio si lo so e adesso e ora che la festa cominci dal regista di man in black che gli stati uniti si dividono non è certo una cosa augurabile un'avventura credo che sia meglio andare a dir poco scatenata Dio quanto è coraggioso visto che è tutto sistemato Will Smith Kevin Kline Kenneth Branagh e Solma Hayek Wild Wild West questo è un west che nessuno potrà mai domare attento che scotta wow wow west wow wow west Grazie.